Salve a tutti amici ben ritrovati, io sono i vostri Mitterry e siamo qui tornati su Uffision 9 per un nuovo pack opening. Come vedete abbiamo ben sei pacchetti forti tra la division Rivals, tra i foot insomma e le sfide, cazzo di rosa. Ma ora andiamo a vedere cosa ci aspetta questo specchiettamento. Abbiamo un nuovo premium maxi, un nuovo premium normale, mega, 2 mega, un pacchetto consumabile rari e un pacchetto giotto ai misti prime. Quindi, vanno le chance e il sacco più pack opening. Let's go! Non è un walk out insieme a me spionare le banderine almeno, banderine ok, è un if! Olandese? DC? No! Le Borne chi è? Ah sì, Ake, l'ex Chelsea! Eh, non malaccio Ake, olandese, un if! Abbiamo un po' che ci aspetta, vanno con la Corsa Tribello, Ziel, Gudmondson, Kinsuye, Varela... Conosciamo Varela! Katai, insomma, diciamo, un buon pacchetto diciamo se è tutto. Andiamo a questo nuovo pacchetto. Oro premium. Non è... Attenzione! Non è anche banderina, ok, bene. Spagnolo, DC. Ah, Batra! Quello che avevo if che ho venduto dal fuoco normale. Sembra che Batra voglia un po'... Mi si è tormentato. Abbiamo anche Shule, Onekuru, Bittencourt, Pauline, Losar, Sebe, Beto, Angoraggi. Abbiamo un doppione che scopiante lo scartiamo, ovviamente. Bene. Andiamo col terzo pacchetto, pacchetto mega, con 30 rari, 30 giochi disponibili, con... suonami, ho trovato le 12 di cui 18 rari. Benissimo. Andiamo col terzo pacchetto. Non è walk out. Abbiamo banderina. Neanche quello, va bene. Spagnolo, Addie. Ah, Petro. Pensavo di nuovo Batra. Ci si è rimasto veramente brutto... Male, male, male. Bene. Ok, abbiamo Petro. Abbiamo un po' cos'altro c'è. Dobele Wilson. Mamma quanto è brutto questo. Abdul Raham. Vabbè. Bustos. E questo è riposto al Sizio e potere un busto correttivo, va bene. Romero Gamarra. E questo che è? Io ho già detto i poschi non lo so del genere, ma... Vabbè. Vabbè, se li non serviamo. Ancora il Cilasa e bambano, vabbè. Questi sarebbero scartati per forza. Ok, scartati. Ok, andiamo col terzo, col quarto pacchetto mega, col quarto pacchetto, un altro mega. Speriamo bene stavolta. Non è walk out. Andiamo con le mandorine, cavolo. E neanche quelle. Ah, Brasile. Atti. No, Raffael, no. Quanto è brutto, Raffael. Quanto è brutto, Raffael. Vabbè. Arias, Filippo, Borchi Iglesias, Pugioni Viuli Iglesias, Sacrettero, famoso regista, Musa, signor Savalli, c'è anche un doppione, Vierigna. 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 Ok, prima di aprire tutti i due pacchetti, usiamo la tattica Luis Gustavo. Quanto è bello. Ok, dopo aver visto questa scena orribile, andiamo a aprire gli restanti ultimi pacchetti. Pacchetto a consumi rari. Questo dov'essere... Questo dov'essere... Quanto è 8 oggetti? Peccato. Beh, potete arrivare lì. L'ultimo pacchetto, spero di essere quello buono, ti prego. Non è walk out. Neanche banderine. Croazia, TD. Serna. Grandissimo colpo, eh. Serna, quanto è vecchio. Andiamo anche Minagrassi. Siamo tutti al club. Ince. Lo scartiamo. Allora. lo scartiamo. Lo scartiamo. Apriamo questo, dai. Rischiamociare. 50.000 crediti. Rischiamola, Una walkout, una azione, a mano bandiere, si, chi sei, Brasile, COC, chi è, Giuliano, 50 mercati per Giuliano, che bello, si, ho fatto questo la vita, anche per i 4, Danise Bios, Valery che non ci lascia mai, un Chesa, un Mario Lui, Sissoko, Arnandez, ok, questi li diamo da tutti lì, mentre questi qua, Beltai, sono Gamay e Gamarra, li mandiamo a scartare. Ok, questa è la mia ultima generata, ossia aprire i pacchetti usando i crediti, non farle mai, io perché sempre ci casco ogni volta, niente, non mi ho trovato granché ma diciamo un if che potremmo usare per farci di qualche credito, ne scostavo, non ha servito a niente, ok, ecco qui, ah che, vediamo quanto potrà valere, ah, 20.000 si può vendere, 20.000, fino a 20 mesi, quindi io metterei, partirei da un prezzo basso di 18.000 e il massimo per un compra ora di 28.000, è un altro sul mercato, sperendo che ci sia, ci porti bene, devo dire che non ho fatto tanto per settimana con di vice o rivals, neanche squad bots, perché non stiamo un po' pesante, però speriamo, spero di poter riportare, di ci scegliere più avanti, così da poter avere magari più giocatori, più pacchetti da aprire, beh, che dire, non mi resta salutarvi, vi invito a lasciare un mi piace, in caso il video vi piaccia, iscrivetevi al canale, attivate la campanella in linea, così da rimanere aggiornati sui nuovi video che usciranno, di seguimi su Twitch, devo fare delle live, magari potrò anche qualche di vice o rivals, o se riuscio a fare la prima volta i full champions, che notte cercherete ma mai riesco a fare, di seguimi sui social, così da sapere cosa sapere sul mio lavoro, e niente, al prossimo episodio, passo e chiudo! Grazie a tutti!